warrior lunge anche noto con affondi con le braccia in alto porta le braccia in alto in linea con le spalle e fai un affondo avanti tornando indietro sul posto in questo gesto ovviamente migliorando con la forza potrai tenere dei manubri o dei kettlebell direttamente in mano quindi appesantando moltissimo il gesto e la difficoltà